Ciao un buono ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Milan-Cagliari 2-1 Partita che si è conclusa mezz'ora fa Il Milan ha vinto 2-1 e ha giocato molto bene Ha giocato bene e ha vinto 2-1 Allora, il primo gol è stato aperto molto bene Con un passaggio molto bello da... mi ricordo che ha segnato E poi ha fatto 1-1 il coso e poi ha segnato 2-1 il non so chi Il Milan sta giocando molto bene questa stagione Sono molto contento di come giochi Anche se deve giocare in Europa League Comunque la tiene la... la stiga per giocare in Europa League e Serie A Perché è molto difficile Comunque ha giocato molto bene il Milan Ha vinto 2-1 E... Se deve essere guaiose Finivo 1-1 per il Cagliari O Milan ha giocato tanto spara E per fortuna l'oro che non è successo E ha giocato molto bene il Milan Doi complimenti a loro perché colpa non ne do a me A me la colpa non è la tale perché ha vinto il Milan Ovviamente Ehm... Ha giocato molto bene Se meritato di vincere Questo c'è da dire I due o due squadre di Milano vincono Una a Roma e una a Milano Non c'è n'è da dire Una a Roma e una a Milano E una a Milano Sanno noi a Milano A Milano E' quel suo merdo Ehm... Il Cagliari che... Ha paggiato e pensava di vincere Però quel calcio di punizione gliene dò 10 Perché era grandissimo Ha scavalcato una barrea di non so quanti uomini Cioè due o tre uomini Oh! Nell'ampiccolo angoletto Milano ha vinto Forza ragazzi Forza mi due Ovviamente E' un po' forza mine Ehm... No, non forza mine E... Penso che potrà vincere Però... Mmm... Cazzo cazzo Ciao